L'onda lunga dell'estate e anche il problema di vecchie tubature si sta facendo sentire in diverse zone dell'Aquilano dove è capitato di avere a secco i rubinetti nella notte. Un fenomeno però che è tenuto sotto costante controllo della Gran Sasso Acqua e un problema che deriva in primis dallo stato delle sorgenti che hanno avuto notevoli perdite di volume a causa della siccità e poi c'è il fatto che le chiusure di agosto hanno determinato un deterioramento delle reti idriche, alcune molto vecchie. In questi giorni dunque l'azienda sta procedendo ad alcune manutenzioni e per questo le interruzioni vengono fatte di notte per non provocare disagi e sulla comunicazione all'utenza l'azienda ha già spiegato che non sono interruzioni programmate per le quali c'è l'obbligo delle 48 ore, si agisce in emergenza in molti casi. Noi stiamo facendo uno sforzo enorme sulla ricerca perdite, perdite generate soprattutto dalle chiusure necessarie eseguite in agosto quando i consumi erano elevatissimi. Chiaramente quando intercettiamo perdite importanti è necessario intervenire subito, quindi è impezzabile programmare la chiusura 48 ore prima perché signiferebbe buttare per strada merri cubi e merri cubi di acqua, cosa non possibile anche a livello normativo. Quindi in quei casi viene fatta la chiusura se non è possibile intervenire senza chiudere l'acqua. Ecco una situazione che potrebbe accadere ancora finché la situazione appunto non tornerà normale però c'è un discorso da fare, l'utente dotato di autoclave ad esempio col fatto che voi chiudete la notte e quindi il consumo d'acqua è davvero minimo non dovrebbe in teoria neanche accorgersi? Sì sì, gli utenti dotati di autoclave non si accorgono neanche delle chiusure notturne ovviamente perché i consumi di acqua di notte sono davvero ridotte normalmente nelle abitazioni. Chiaramente chi non ce l'ha ne risente immediatamente. Posso dire ancora questo, alcune sorgenti stanno erogando in questo momento il minimo storico di acqua, minimi raggiunti nel 2003 e poi mai più toccati. Quindi diciamo stiamo centellinando le risorse, questo è il discorso.